Il circolo territoriale del Partito Democratico di Mugnano, aderisce alla campagna Adesioni 2018 La Storia Siamo Voi Parte anche quest'anno il percorso di rinnovo barra adesioni al PD. Ci rivolgiamo ai tesserati, ai simpatizzanti e a quanti credono nei valori fondanti di questo partito, portatore di un progetto forte e coraggioso di riforma del Paese, aperto, moderno, di governo Nonostante i risultati delle ultime elezioni abbiano segnato un netto crollo delle preferenze per i democratici, restiamo convinti che le ragioni costitutive del PD abbiamo necessità di essere riscoperte, in un momento così delicato per tutti Noi continuiamo a pensare, che la politica sia incontro Condivisione, passione ed inclusione, e siamo pronti a riformare ed essere difensori di questo comune sentire Il circolo territoriale del PD di Mugnano, riunitosi, ha costituito un team di persone già tesserate che provvederanno ad essere presenti in sede per accogliere Quanti vorranno aderire al tesseramento? Sarà possibile tesserarsi nelle seguenti date 14 luglio dalle ore 18 e 30 alle 20 e 30 15 e 16 luglio dalle 10 e 30 alle 12 e 30 21 settembre Dalle 10 e 30 alle 12 e 30 le persone dovranno presentare e sottoscrivere il modulo di adesione al PD presso la sede di Mugnano in via Chiesa, Palazzo Zurlo, Capasso Comunicato del segretario del circolo cittadino, professore Andrea Cipoletta